Calcio Pazzi Buongiorno, approfitto dell'amicizia per proporvi la mia campagna elettorale, votate per il partito Mink, movimento indipendentista calciofo, di cui io, modestamente, ne sono il massimo esponente. Noi non perdiamo tempo alla lotta alla mafia, alla disoccupazione, all'inquinamento e a tutte queste pesterie. Noi pensiamo alle cose concrete. Palermo in Champions League, Catania in Champions League, Messina in Champions League, Japan in Europa League, perché mi stanno un po' antepatici. Quindi ricordatevi, votate Mink, perché solo col Mink potremo vedere una squadra siciliana in Champions League. Mi raccomando, ci vediamo domenica 28 alle urne. Salutiamo Viciotti!